Buongiorno, benvenuti a questa videoanalisi 14 ottobre 2016, videoanalisi che potete ricevere gratis via email se cliccate sulla scritta che compare sopra la mia testa, videoanalisi realizzate insieme al broker STO, quello è il sito, sotto di me invece scorrono, eccole lì che stanno passando proprio adesso, Marco Pianezza numero 02 di Milano, ufficio diretto, anche la posta elettronica all'indirizzo email di Marco, Marco che anche eventualmente mi aspetta a Milano, so già che si sono prenotati in tanti che sono pronti lì andarlo a trovare di persona. Titolo della videoanalisi di oggi, puntini, 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 perché non c'è nulla di nuovo da aggiungere rispetto a quanto detto gli scorsi giorni. E' inutile prendersi in giro, inventarsi qualcosa di nuovo, mercati restano nella no trend zone, nella zona dove non c'è un trend fase laterale, stanno solleticando però la parte, pericolosamente stanno toccando la parte bassa della fase laterale, il trading range in cui si trovano in queste oramai diverse sedute. Però ancora non ci sono grosse novità di rilievo, il Nasdaq ha provato l'altro giorno a rompere, a superare l'ostacolo al rialzo, ma è dovuto rientrare subito, mettersi in riga e rimanere anch'esso intrappolato in questa situazione. Situazione che oramai sembra, dobbiamo aspettare le elezioni presidenziali, conoscere il Presidente dell'America sta diventando un elemento che va a influenzare anche l'andamento del dollaro, quindi tutti gli asset legati alla moneta USA, perché se vince la Clinton probabilmente resta tutto così come adesso, la Yellen al suo posto, se vince Trump, e qui, non sappiamo, lì diventa un elemento che almeno inizialmente potrebbe creare della volatilità, poi, in base a quello che sarà effettivamente la Presidenza Trump, se la Yellen resta a suo posto, visto che gli erano dette di tutte, di cotte, di crude, in questa preparazione, in questa campagna elettorale, alla Yellen, dicendo che addirittura è politicamente più schierata rispetto alla Clinton, quindi immaginate, insomma, se dovesse vincere una coabitazione tra Trump e Yellen, appare davvero molto difficile da inquadrare e vedere, quindi potrebbe sconvolgere tutto quello che è adesso la struttura, non solo della Federal Reserve, anche politica monetaria, tante cose, ecco perché quindi il mercato in questo momento non prende posizione, sta fermo, aspetta, aspettano, aspettano operatori, quindi si resta in una situazione così di pochi movimenti, insomma, sussulti, però stiamo nella parte pericolosa, quella bassa, infatti se cominciamo a vedere un po' di grafici, grazie alla piattaforma STO, MetaTrader 4, questo è l'indice giapponese che chiude la settimana con un possibile ripiegamento, l'indice giapponese non è in una zona di allerta, diciamo, dove comincia a suonare l'allarme, possibile violazione di supporto, ma neanche possibile violazione di resistenza, con la formazione di questa candela rossa e chi nasce si torna a puntare a sud del grafico, la parte bassa è 16.000, sono 1000 punti, da 17.000 a 16.000, quindi non nulla di nuovo da dire per quanto riguarda l'indice giapponese. Andiamo a vedere gli indici americani, intanto oggi in questo periodo è tornata un po' la Cina a movimentare, l'altro giorno dati negativi, oggi ieri dati negativi, sull'export, oggi dati leggermente positivi, quindi un po' oggi è la Cina che movimenta, poi nel pomeriggio stasera aspettiamo la Yellen che parlerà, ma a questo punto se proprio non dovesse inventarsi qualcosa di nuovo, ma la Yellen non si sbottona mai storicamente, almeno la conosciamo così, piccola volatilità in tre dei, ma alla fine si resta dentro situazioni inquadrate per il momento. Questi sono gli indici americani, dove c'è il Nasdaq, come detto qui aveva provato a mettere la testa sopra, il naso sopra la resistenza, sui massimi storici, attenzione l'America comunque bisogna ricordare che siamo altissimi, livelli altissimi, e come titolo dell'altra videoanalisi dell'altro giorno in cui dicevo, è il momento della verità, per vedere se le trimestrali giustificano questi prezzi alti di Wall Street. E qui invece c'è un allarme, un alert che suona sull'S&P 500 al centro, e questo invece è il Dow Jones proprio sotto di me, che sono in questo momento in fase di test del supporto S&P 500 2129, e invece 18.000 aria, 18.066 ieri, vedete è andato ampiamente sotto i 18.000, pericolosamente sotto i 18.000, per fortuna che alla fine insomma non c'è stata almeno la violazione, però siamo lì vicinissimi, quindi attenzione. Cominciamo a vedere anche gli indici europei, eccoli qua, con, dove comincio così, mi tolgo un attimo, qui c'è l'indice inglese che prosegue la resistenza candela rossa ai chinasci dai massimi storici, per il resto abbiamo il nostro Fusimib, in questo momento 16.400 punti, quindi si tiene a debita a distanza per il momento dal supporto rischio violazione 16.100, questo è il DAX 10.500 adesso, 10.345 il livello da monitorare, situazione piuttosto tranquilla per l'Eurostox, qui è l'indice francese, invece c'è la violazione dell'indice spagnolo, ma già sta disegnando una nuova candela verde, quindi un po' come il Nasdaq che aveva rotto al rialzo e poi rientrato, violazione del supporto per l'indice spagnolo che però già, anche qui, sta ritornando, ridisegnando. Insomma, vedete, già vedere questa alternanza di candele rosse e verdi ai chinasci, solitamente i grafici ai chinasci invece si vedono questi tappeti verdi e rossi, trend ben definiti, anche un grafico ai chinasci che sembra, assomiglia molto a un classico candele giapponese, candle seek, indica che non c'è trend, non parto nei mercati, aspettano, 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 aspettano. Cominciamo a vedere un po' di asset in dollari, forex e materie, prima, petrolio, dopo la candela rossa doji, questa piccolina che già c'era stata praticamente nella seduta dell'altro giorno, ieri ha confermato una candela ancora rossa, però probabilmente qui, il discorso che ho fatto ieri, andrà a stabilizzarsi intorno a questi livelli, visto che paesi OPEC, soprattutto sono contenti, se cominciamo ad alzare l'asticella, le quotazioni del petrolio, si reattivano i pozzi dello shale oil americano, che è la produzione alternativa che hanno inventato lì al petrolio, che è giustificato a reattivare i pozzi giunti ai 50-60 dollari. Quindi, mantenendo questi prezzi, potremmo anche assistere su un petrolio che si ferma lì, per il momento in attesa degli incontri che ci saranno a fine mese, e soprattutto il 30 novembre l'OPEC, convegno, che ci sarà quello importantissimo dell'OPEC, che dovrà ratificare gli accordi presi a fine settembre in Algeria. Se riusciranno a mettersi d'accordo che lì è dura, è dura, è dura. USDCAD, che pensavo fosse pronto anche a esplodere il rialzo, visto che il petrolio ha disegnato questa candela rossa e chi nasce, invece sta rientrando anch'esso, addirittura adesso siamo sotto 1,32, ieri sembrava rompere la resistenza sopra 1,33, e sta ritornando all'interno. E si rompe la correlazione, salta la correlazione inversa, cioè se uno sale e l'altro scende mediamente, non è automatica questa cosa qui, e in questo momento sono tutti e due a ribasso. Questa è un'altra anomalia del fatto che, in questo momento, mercati abbastanza fermi. Anche Gold ha disegnato, qui in basso, lo vedete, questa piccola candela verde ai chi nasce, su un supporto di riferimento 1,254. Sembra, almeno l'idea è che è giusto una pausa di un trend al ribasso, dalle massime della resistenza 1,365, che ha conosciuto poi un'accelerazione sulla rottura del livello 1,309. Andiamo a vedere altri asset in dollari, ovvero altre coppie di valute, quelle più importanti, euro-dollaro per il momento si è fermato sul supporto, il trend resta però al ribasso, dollaro-franco-svizzero resta al rialzo dopo che ha violato la resistenza 98,37. Dollar-yen è lì che prova con un trend che già ha rialzo, mercato al rialzo per quanto riguarda il dollaro-yen, sta solo cercando di superare questo ostacolo 104, che è il livello da dove è praticamente già qui, vedete, ad agosto, era poi tornato giù fino al supporto 100, aria 100. Sterlina è lì, in questo momento sotto 1,22, come potete vedere da qui o anche da qui, insomma questo è il book praticamente della MetaTrader, quello attraverso il quale potete negoziare con STO. Vi faccio vedere, a proposito della Sterlina, ieri c'è andato giù pesante Donald Tusk, non Donald Trump americano, ma il presidente del Consiglio europeo, che ieri ha tweetato, eccolo qui, vedete, questo qui è la fotografia, ieri ha tweetato praticamente, che di only la vera, la sola reale alternativa, adesso, è tra hard Brexit, quindi quello che ormai conoscete, un taglio proprio netto delle relazioni, quindi anche come a livello non solo circolazione di beni, ma anche di persone, dove si sta giocando la partita, la May sta avendo molte difficoltà in questo senso, è no Brexit, non hard Brexit e soft Brexit, come siamo stati abituati in questi giorni, ha detto tra hard Brexit e no Brexit addirittura, infatti, anche se oggi, even if today hardly anyone believes in such possibility, anche se oggi difficilmente qualcuno pensa a questa possibilità di no Brexit, tant'è che la stessa Teresa May ha detto, ok, lascio, consento il fatto che il Parlamento possa esprimersi sul hard Brexit e soft Brexit, ma non sull'esito del referendum, non si torna indietro, perché qualcuno ha cominciato anche a vedere questa possibilità, che andando in Parlamento, il Parlamento potrebbe anche votare contro il Brexit, insomma, anche perché è stata una, anche se è un referendum espressione popolare, andare contro quella che è stata l'espressione popolare, anche se ha vinto di poco, insomma, alla fine il margine è stato abbastanza ridotto, e quindi questa è stata la dichiarazione di Itachi, poi anche ha aggiunto altro, non ci sono dolci sul tavolo per nessuno, insomma, è andato bello giù pesante ieri, il nostro Presidente del Consiglio Europeo, e quindi questo, volevo giusto farvi vedere questo tweet di ieri. Torniamo alla piattaforma, chiudiamo col mercato obbligazionario, c'è una piccola risalita di un trend, che comunque lo vedete abbastanza evidente, al ribasso, questo è il 10 anni americano, 10 anni Bund tedesco, e il nostro BTP italiano, che si è adagiato qui su questi prezzi, area 141, per il momento si è preso questa sosta qui. Io mi fermo, è il weekend, quindi auguro a tutti voi un buon fine settimana, appuntamento lunedì con Angelo Ciavarella, come sempre, oramai appuntamento del lunedì, per fare il punto della situazione della settimana appena chiusa, e quella che ci aspetta settimana prossima. Buon weekend a tutti, e arrivederci a lunedì. Salve!